È nata la tradizione al mese di marzo, nasce questa bella mimosa color oro. Il fiore tradizionale dell'8 marzo nel corso degli anni è diventato il simbolo di questa giornata e dell'avvio della primavera. È un fiore che è nato nel mese di marzo, quindi è un fiore che a marzo lo abbiamo sulle piantagioni che troviamo per strada e poi si è associata alla tradizione delle donne. Nella giornata dedicata alle donne si è soliti acquistarle da sole o in composizioni particolari. Oggi la mimosa è associata a tantissimi fiori tipo tulipani dell'Olanda, rose olandesi, red naomi. Stiamo facendo dei vasi con tulipani di Amsterdam, questi qua pure nero, anche scatole diamante. Quello che sta andando per la maggiore sono ovviamente le scatole, le borse. Il caro fiori non dà scampo al settore e anche per le mimose c'è un piccolo rincaro che i commercianti cercano di bilanciare con altri servizi e senza far pesare troppo la spesa alle tasche dei clienti. Essendo che c'è questo aumento di energia, di metano e quant'altro, i fiori stando sotto alle serre sono aumentati tantissimi. Noi cerchiamo di trovare sempre un prezzo un po' migliore per il nostro cliente e diamo consegna gratuita.